Tommaso Paradiso racconta sempre che tra le cose più incredibili che gli sono accadute c'è un pranzo a Bologna con Luca Carboni del quale rivela ben poco o nulla ma solo che dopo quell'episodio ha scritto il brano Luca lo stesso e un pranzo a Roma dove sua madre si è commossa quando alcuni fan gli hanno chiesto un selfie.